I notari possiamo tracciare un bilancio del 2017 e magari guardare anche al futuro con qualche progetto che vi riguarda? Sì, noi abbiamo fortemente voluto questa conferenza stampa oggi proprio per presentare il nostro lavoro, quello che facciamo ogni giorno da dieci anni, quindi il nostro è un bilancio pluriennale, chiaramente un bilancio che porta dei numeri importanti perché oggi la cascala delle marmore è il sito pubblicitato in Lombra e tra i siti pubblicitati tra i museali naturalistici d'Italia. Noi adesso riusciamo a fare tutte queste cose con, questo è un altro dato molto importante, abbiamo 49 persone occupate attualmente, di cui la cosa molto importante che va a sottolineare sono il 40% donne e 33 sulle 49 sono per professionalità alte, quindi con profili di studio molto alti e questo è veramente un dato molto positivo per la città. Detto questo, un altro dato molto interessante è la ricchezza prodotta, considerate che da quando consideriamo che da quando il Comune gestisce direttamente il sito della cascata praticamente l'incasso è stato quasi di 20 milioni di euro, di questi 20 milioni tolte spese eccetera sono rimasti come margine positiva per il Comune più di 6 milioni di euro, 6 milioni e mezzo, quindi una gestione, questo dal 2008 ad oggi, quindi a 2016 non abbiamo ancora il dato ovviamente costi ricavi del 2017 e ovviamente per riuscire a ma dal 2008 al 2016 parliamo di 6 milioni e mezzo di margine operativo, quindi vuol dire che è un'operazione che dà ricchezza alla città molto molto importante, è un'entrata veramente intensa. Detto ciò, un altro dato importante è che noi garantiamo questo lavoro e malgrado i problemi che ci sono stati col Sisma tanto per dare numeri, nel 2016 dopo il 23 di agosto avevamo il record assoluto di ingressi per lo stesso periodo dell'anno precedente, dal 24 di agosto in poi abbiamo perso 40 mila ingressi, così come nel 2007 dal 1 gennaio a giugno abbiamo perso quasi 40 mila visitatori anche lì, ma soprattutto dato molto interessante di gruppi e di scuole, quindi in cascata non sono venuti i gruppi, abbiamo avuto proprio una situazione veramente drammatica portata al Sisma, questo ha fatto sì che noi ovviamente che viviamo di agio del biglietto, noi prendiamo ricordo 1,22 euro sul biglietto, oggi il biglietto della cascata intero costa 10 e ovviamente soltanto dobbiamo comunque noi affrontare poi il lavoro di tutti i giorni perché noi dobbiamo comunque garantire se ci sono o non ci sono turisti ben 32 mila ore di lavoro, quindi il lavoro è assicurato, ovviamente non nego che abbiamo sofferto un po' perché 40 mila ingressi non sono pochi. Detto questo quindi però per i 10 anni per noi diciamo in generale è stato un bilancio per la città di Terni ma anche per noi soprattutto per il lavoro che abbiamo dato molto positivo e ci tenevamo oggi a comunicarlo alla città come momento anche di conoscenza di questa chiamiamolo azienda vera e propria che è la cascata delle marmore.